Anna era una bambina cresciuta tra le colline di un piccolo paese, Brendola. Sin da piccola, il suo cuore sembrava fatto di dolcezza e bontà. Viveva con sua madre e suo padre, ma il padre non era sempre un uomo buono. Spesso beveva troppo, e quando il vino gli nebbiava la mente, diventava cattivo, sfogando la sua rabbia su chi gli stava vicino. In quei momenti, Anna cercava sempre di proteggere sua madre, pregando e parlando dolcemente per calmare il padre. Le sue preghiere, la sua dolcezza, erano come un faro di luce in quella casa che a volte sembrava buia. Anche se a scuola non era una delle bambine più brillanti, il suo cuore era pieno di bontà. Non aveva paura di sembrare ingenua agli occhi degli altri, perché sapeva che quello che contava era la sua volontà di fare del bene. E così, giorno dopo giorno, crescendo, il suo desiderio di donarsi completamente agli altri divenne sempre più forte. Un giorno, vedendo delle suore camminare nel suo paese, Anna disse a sua madre, anche io, quando sarò grande, diventerò suora. La madre la guardò con affetto, sapendo che la sua bambina aveva un cuore speciale. Quell'idea si trasformò presto in una scelta ferma. Nonostante il padre fosse inizialmente contrario, Anna non smise mai di credere che quella fosse la sua strada. Quando finalmente entrò nel convento, sua madre la abbracciò forte e le disse, «Sii sempre buona, prega per noi, anche per tuo padre». Quelle parole rimasero impresse nel cuore di Anna, che le portò con sé in ogni momento della sua vita. Divenuta suora, Anna prese il nome di Maria Bertilla. La sua vita cambiò, ma il suo cuore rimase sempre lo stesso, umile, dolce, pieno di fede. All'inizio lavorava in cucina, ma ben presto fu mandata in ospedale a prendersi cura dei malati. Anche se non aveva esperienza, sorprendentemente si rivelò un'infermiera abilissima. I malati la adoravano e i medici si fidavano di lei nei momenti più delicati. Ogni gesto, ogni parola erano un conforto per chi soffriva. Maria Bertilla trascorreva le sue giornate tra le corsie dell'ospedale, prendendosi cura dei bambini malati e di tutti coloro che avevano bisogno. Era sempre pronta, giorno e notte, senza mai lamentarsi. Aveva una forza che sembrava non esaurirsi mai, anche quando la guerra portò il terrore nella città. Le bombe cadevano su Treviso e nell'ospedale c'era paura, ma Maria Bertilla rimaneva calma. Si inginocchiava in mezzo al reparto e recitava il rosario, infondendo pace a chi le era intorno. Il suo amore per la Madonna era infinito e a tutti raccomandava di rivolgersi a lei nei momenti di bisogno. Diceva che nel cuore della madre di Dio trovava la forza per andare avanti, anche quando il dolore fisico iniziò a farsi sentire. Da tempo nascondeva una malattia, sopportando con pazienza ogni sofferenza. Non si lamentava mai, continuando a servire con il sorriso. Ma la sua salute si consumava lentamente e un giorno il medico fu chiamato per visitarla. Fu chiaro che era necessario un intervento, ma era ormai troppo tardi. Maria Bertilla trascorse gli ultimi giorni della sua vita tra dolori terribili, ma mai perse la sua serenità. Accettò tutto con umiltà, affidando la sua vita al volere di Dio. E così, dopo una vita dedicata a gli altri, Maria Bertilla si preparò per l'incontro con il suo sposo celeste, lasciando dietro di sé un esempio di amore e fede che nessuno avrebbe mai dimenticato. Il suo ricordo rimase vivo nei cuori di chi l'aveva conosciuta, come una luce che continua a brillare anche quando sembra che il buio sia più forte. Anna Francesca Boscardin, nata a Brendola il 6 ottobre 1888, aveva una vita assegnata da contrasti. Mentre sua madre era virtuosa e devota, suo padre Angelo era un uomo violento e geloso, tormentato dall'alcol. Nonostante le esplosioni di cattiveria di suo padre, Anna cercava sempre di difendere sua madre e placare la sua rabbia. La sua dolcezza e devozione erano un richiamo alla bontà, persino per suo padre. Anna, come la chiamavano affettuosamente, non era una studiosa brillante, ma possedeva un cuore gentile e una volontà tenace. Sebbene fosse considerata ignorante a scuola, si distingueva per il suo comportamento esemplare. Quando sarò grande, diventerò suora, aveva detto una volta alla sua mamma, ispirata dalle suore che vedeva chiedere l'elemosina nel suo paese. Questo desiderio si trasformò presto in una vocazione. Né l'incertezza del parroco, né le esitazioni di suo padre riuscirono a spegnere la fiamma che bruciava dentro di lei. L'8 aprile 1905, accompagnata dai suoi genitori, Annetta entrò nella casa madre delle suore Dorotee di Vicenza. La madre le disse, «Sì buona, Anna, pensa solo a diventare santa, prega per noi, per tuo padre». La devota figlia prese sul serio le parole di sua madre e la sua vita divenne una pratica costante di virtù, persino fino all'eroismo. L'8 dicembre 1907, durante la festa dell'Immacolata, suor Bertilla si consacrò definitivamente a Dio e mettendo i santi voti nella casa madre di Vicenza. Successivamente fu mandata a Treviso per sostituire una suora infermiera. Lì, la suora che aveva sempre lavorato in cucina come sguattera, si rivelò una straordinaria infermiera, apprezzata dai medici per la sua abilità nei casi più difficili e delicati e amata dai malati. Passando molto tempo nel reparto dei bambini affetti da difterite, li curò amorevolmente come una madre. In ogni reparto e con ogni paziente che le veniva assegnato, suor Bertilla era ammirata come un'angelica infermiera dalla carità eroica. La sua presenza e le sue parole portavano benedizione e consolazione. Durante la prima guerra mondiale, gli attacchi aerei su Treviso seminavano terrore e caos nella città, incluso l'ospedale dove lavorava suor Bertilla. In quei momenti difficili, si inginocchiava nel mezzo del reparto e recitava il rosario fino a quando il pericolo fosse passato. Il suo amore per la madre di Dio era tenero, fiducioso e semplice come quello di una figlia per sua madre. Raccomandava a tutti la devozione alla Madonna e affidava tutti i suoi assistiti al cuore di lei. La sua attività instancabile, le continue veglie e la pazienza eroica con cui nascondeva il suo malessere consumarono rapidamente la sua robusta salute di umile suora. Il 16 ottobre 1922, su richiesta della superiora, un professore visitò suor Bertilla. La diagnosi rivelò la necessità di un intervento chirurgico per rimuovere un fibroma, ma ormai era troppo tardi. Tre giorni di dolori acuti vissuti con santa rassegnazione e sottomissione assoluta alla volontà divina bastarono a preparare l'incontro di suor Bertilla con il suo sposo celeste. O umilissima santa Maria Bertilla, delicato fiore che hai germogliato tra le ombre del calvario, diffondendo il profumo delle tue virtù davanti a Dio, consolando i sofferenti, ci rivolgiamo a te. Ti preghiamo, concedici dall'Altissimo la tua umiltà e carità che tanto gli hanno compiaciuto e la fiamma di amore purissimo che ti ha consumato interamente. Insegnaci a raccogliere frutti di pace attraverso una dedizione perfetta ai nostri doveri, a meritare, per intercessione tua, la grazia di cui abbiamo bisogno e la ricompensa eterna nel cielo. Dopo la sua morte, la fama di santità di Maria Bertilla si diffuse rapidamente in tutta la regione. Le persone iniziarono a visitare la sua tomba e a chiedere la sua intercessione. Un anno dopo, un'iscrizione fu posta nell'ospedale di Treviso, dove aveva lavorato come un angelo per alleviare le sofferenze umane. Diceva, a suor Bertilla Boscardin, anima eletta di eroica bontà, che per diversi anni ha alleviato come un angelo le umane sofferenze in questo ospedale. La sua memoria e il suo esempio di carità eroica non furono dimenticati. Nel 1925 iniziarono i processi per la sua canonizzazione. Il 6 giugno 1952 Papa Pio XII la beatificò, riconoscendo il suo straordinario impegno nel servizio agli altri. Fu una cerimonia solenne, alla presenza di numerosi fedeli, membri della sua famiglia e alcuni pazienti che aveva assistito. Ma non finì qui. L'11 maggio 1961, Papa Giovanni XXIII la canonizzò ufficialmente, confermando che Maria Bertilla era una santa riconosciuta dalla Chiesa. Oggi, il 20 ottobre, celebriamo la festa di Santa Maria Bertilla, un esempio luminoso di umiltà, carità e dedizione al servizio degli altri. La sua vita ci ispira a vivere con generosità e amore verso il prossimo, seguendo il suo esempio di donarsi completamente per alleviare le sofferenze e portare speranza nelle vite degli altri. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore grazie di cuore.